A.I.W.C. Portugues, la storia, le caratteristiche e i modelli di un orologio iconico. L'A.I.W.C. Portugues nasce nel 1939, quando due commercianti portuguesi, appassionati di orologi, si rivolgono alla A.I.W.C. per commissionare un orologio da polso che avesse la precisione e la leggibilità di un orologio da marina. All'epoca, infatti, gli orologi da polso erano considerati meno affidabili e accurati degli orologi da tasca, che avevano movimenti più grandi e robusti. Il risultato fu un orologio dal design semplice ma raffinato, con un quadrante chiaro e pulito, dotato di lancette a forma di foglia, numeri arabi e un piccolo contatore dei secondi a ore 6. Il nome Portugues, che in italiano significa portoghese, fu scelto in onore dei due committenti e divenne il marchio distintivo di questo modello. Il design della collezione Portugues è caratterizzato da dimensioni notevoli, sobri numeri arabi, sottili lancetti a foglia e minuteria di tipo Schema de Ferra. Chiaramente strutturato ed essenziale, il quadrante del Portugues è di colore bianco, nero, blu o argento, è ampio e ben leggibile. La cassa, in acciaio, oro o platino, ha una forma rotonda e armoniosa, con una corona e dei pulsanti rettangolari per la versione cronografo. Il vetro è in zaffiro antiriflesso e il fondello è in vetro zaffiro o in metallo. Il cinturino è in pelle di alligatore o in metallo, con una chiusura ad ardiglione o a farfalla. Ecco alcuni modelli iconici del Portugues. Il Portugues Sideral Scafusia, referenza IW5041, è l'orologio meccanico più complesso mai costruito da EIWC. Questo orologio ha 96 ore di riserva di carica e indica l'ora siderale, il giorno e la notte, il sorgere e il tramontare del sole e della luna e la mappa celeste personalizzata. Inoltre indica la riserva di carica, il calendario perpetuo e l'anno bisestile. Chiude l'abbondante corredo delle complicazioni, un tourbillon collocato a ore 9. L'AEWC Portugues Grand Complication. Il modello che racchiude 20 complicazioni in un solo orologio, tra cui il calendario perpetuo, le funzioni cronografiche, la ripetizione minuti e l'indicazione perpetua delle fasi lunari. Edizione limitata a 250 esemplari. L'AEWC Portugues Minute Repeater. Nella ripetizione minuti una raffinata suoneria, azionabile tramite un cursore, scandisce le ore, i quarti d'ora e i minuti, trasformando un concetto astratto come quello del tempo in un'esperienza acustica concreta. Edizione limitata a 500 esemplari. L'AEWC Portugues è un orologio che non passa inosservato, per la sua bellezza, la sua precisione e la sua storia. Si tratta di un orologio che esprime il meglio della tradizione orologera svizzera e che si adatta a ogni occasione, dal lavoro al tempo libero.